le feltromagie non si fermano non devono fermarsi si devono diffondere perché sono virali ma soprattutto perché fanno bene all'umore puoi fare feltromagie direttamente da casa tua in tre modi puoi scaricare dei pdf che trovi sul mio sito oppure partecipare alle lezioni individuali e scegliendo fra tre progetti per principianti ma con tre tipologie di livelli differenti che trovi sempre sul mio sito e poi ho pensato un'altra cosa ho pensato di mettere a disposizione per te comunque tutti i progetti che avrei portato in fiera a bergamo e a vicenza quindi a partire da oggi sono disponibili dei webinar collettivi per i progetti di bassorilievo feltro pittorico e scultura tutto sul mio sito www.nearteneparte.net o vai sulla mia pagina facebook nearte ne parte web se ami le lezioni individuali puoi scegliere tra tre differenti webinar la cokeshi l'hard doll della dell'aria oppure il topolino tre progetti completamente diversi in tutti e tre basic ma con tre difficoltà differenti se invece preferisci webinar collettivi allora potrai scegliere tra cinque progetti due di filtro pittorico una scultura e due bassorilievi anche questi accessibili a tutti e ad un prezzo estremamente conveniente non sai qual è il progetto che fa per te ma non c'è nessunissimo problema vienimi a trovare ogni giorno alle 18 e 30 sulla mia pagina facebook e ti terrò compagnia per le prossime settimane con le mie feltromagie e ti racconterò tutti i dettagli dei vari webinar collettivi che possono interessarti ti aspetto per fare il filtro magie insieme